Intanto voglio salutare tutte le autorità presenti, il Capo Dipartimento della Personale, il Prefetto Varratta, tutti gli ospiti e in particolare voglio ringraziare il Vice Ministro Bubbico che ha sostenuto con vero entusiasmo questa iniziativa per la firma del protocollo di intesa con la Potificio Università Lateranense e voglio ringraziare e salutare il Rettore delle Università, il Monsignore Enrico Dal Covolo, che ringrazio per la sua determinazione che ha dato veramente corpo e anima a questo progetto. Quella che oggi andiamo a sancire con la firma di un protocollo di intesa è un'iniziativa molto importante che per la prima volta segna l'avvio di una nuova collaborazione tra il Ministero dell'Interno e la Pontificia Università Lateranense. Verrà fornito un sostegno congiunto attribuendo 20 borse di studio a studenti titolari di protezione internazionale, ospiti nel sistema di accoglienza SPRAR, con particolare riferimento a quelli che sono reinsediati, che sono stati reinsediati in Italia e che provengono da paesi in conflitto. E grazie a queste borse di studio i ragazzi potranno proseguire gli studi che hanno interrotto forzosamente e potranno accedere all'Università Lateranense e prepararsi al mondo del lavoro. L'obiettivo quindi è quello di fornire supporto ai giovani che sono i soggetti più vulnerabili e che vanno supportati con azioni di tutela e di inclusione. Questo obiettivo ben si inquadra nelle politiche del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e in particolare della Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, politiche che mirano a garantire pari dignità di diritti ai cittadini stranieri e in modo particolare ai titolari di protezione internazionale maggiormente bisognosi di tutela e di sostegno. La collaborazione che nasce oggi con l'Università Lateranense costituisce un tassello preziosissimo di un mosaico di azioni svolte che possono espandersi sul territorio, devono espandersi, per rafforzare quella che è la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, a partire proprio dai giovani rispetto ai quali è forte l'impegno del Ministero dell'Interno e in particolare del capo dipartimento prefetto Morcone che adesso ci raggiungerà impegnato in un altro importante incontro e quindi oggi sono presenti anche in una piccola delegazione anche degli studenti della Università Lateranense a cui si rivolge il nostro saluto e che testimoniano anche l'attenzione del mondo universitario che costituisce un ottimo volano per i processi di integrazione. La collaborazione tra il Ministero dell'Interno e l'Università Pontificia Lateranense avrà inizio dal mese di settembre, proprio per l'anno accademico 2016-2017 e degli obiettivi che si vogliono perseguire con questa iniziativa. Ne voglio sottolineare in particolar modo due. In primo luogo il sostegno e l'accompagnamento costante che verrà offerto a questi giovani rifugiati che saranno affidati proprio alle cure del cappellano dell'Università Don Mirko in teglia e poi lo spirito multiculturale che crea spirito di gruppo tra i giovani studienti che provengono da culture diverse e da nazioni diverse. Quindi questo è il primo passo e l'auspicio è quello che questo protocollo possa proseguire nel tempo come d'altra parte è stato espressamente previsto nel nostro intesa e possa essere rinnovato anche nei prossimi anni. E quindi con piacere lascio ora la parola al Rettore della Pontificia Università Lateranense e Sua Monsignore Enrico Dal Covolo. Grazie. Grazie mille. Signor Viceministro, eccellenze, cari professori e studenti, amici tutti. Davvero quello che compiamo oggi in questa suggestiva sala di conferenze è un atto di rilevante valore simbolico, cioè è un segno secondo la ricchezza semantica che la cosa comporta. Perché ribadisce a questa nostra amata Italia la natura politica di ogni istituzione, anche delle istituzioni ecclesiali e, come in questo caso, delle università pontifice. E se queste istituzioni, non dobbiamo mai dimenticarlo, esistono per la polis. Sono chiamate, cioè, secondo la specifica natura e missione di ciascuna, a illuminare e sostenere il cammino degli uomini nella storia. Non molti di noi, probabilmente, alla fine del secolo scorso, avrebbero potuto immaginare che la storia del terzo millennio dopo Cristo ci si sarebbe presentata dinanzi così, così, con sul palmo delle mani due enormi sfide che si fanno sempre più gravi, la crisi migratoria e la guerra del terrore. La crisi migratoria e la guerra del terrore. Tali sfide, è evidente, vanno affrontate a un duplice livello. Il primo livello è quello della riflessione, che individua cause, variabili, scenari, strategie. E il secondo livello è quello dell'azione, nella quale trova posto, in particolare, il nostro dovere di agire dinanzi ai drammi umanitari che sembrano essere diventati il nostro pane quotidiano, intriso di lacrime e di sangue. Bene, se la presenza dell'università al primo livello, cioè quello della riflessione, è un fatto evidente, non ci sarebbe università. Se non ci fosse questo piano di riflessione attenta, critica scientifica, però può essere meno evidente per una università il secondo livello, quello dell'azione. Ebbene, la firma odierna del protocollo d'intesa col Ministero dell'Interno dimostra che anche l'Università può uscire dalla torre eburnea del sapere e della ricerca e compiere gesti concreti di compassione e di accoglienza. Io ringrazio lei, signor Viceministro, ringrazio i suoi collaboratori, in modo particolare i prefetti Scotto Lavina, che tanto si è data da fare, e il prefetto Morcone, per la professionalità e anche per la celerità con cui è stato possibile questo evento odierno. Per me è emozionante, sono veramente emozionato e mi capita di rado, perché dopo aver predicato al Santo Padre, alla sua curia, pensavo di non emozionarmi più. Questa volta sono invece emozionato di questo fatto. E allora ringrazio sinceramente tutti voi qui presenti, ma in particolare mi sia permesso di sottolineare la presenza non solo fisica, ma anche carismatica, direi, di Sua Eccellenza Fra Giacomo della Torre, gran priore dell'Ordine di Malta a Roma, ordine al quale io stesso appartengo, insieme ad altri confratelli, che ringrazio, ordine a tutti noto per lo straordinario lavoro caritativo che svolge nel mondo. Grazie. Grazie, Monsignore. Le sue parole ci hanno emozionato, devo dire che alla sua emozione si accompagna anche la nostra. Lascio adesso la parola al Vice Ministro Bubbico, che ha seguito veramente con grande entusiasmo questa iniziativa, ed è, diciamo, promotore di questa iniziativa. Grazie. Grazie. Anch'io sono convinto che oggi noi stiamo vivendo una giornata molto importante, perché siamo di fronte ad un gesto, ad un atto che non ha nulla di formale, ma mette in campo una volontà sostanziale di due importanti istituzioni che possono fare tanto o devono fare tanto per il benessere dei cittadini e per la pace nel mondo. E l'istituzione universitaria della Santa Sede, la prestigiosissima Pontificio Università Lateranense, che decide di ospitare 20 ragazzi titolari di protezione internazionale, è un evento straordinario, è un evento che segnala di una sensibilità, ma anche di una visione, di una lungimiranza che tutti dovremmo poter considerare e valorizzare. E questa disponibilità, eccellenza, ha trovato nel Ministero dell'Interno non quella attenzione burocratica, quella forma di rispetto per la Santa Sede, per anche uno spirito di appartenenza ad una comune professione religiosa, ma ha trovato invece l'impegno e la sensibilità di persone, di dirigenti, di responsabili che vivono l'impegno per tutelare la dignità delle persone, per agire perché il rispetto, la capacità di comprendersi, l'accoglienza possano diventare fattori costitutivi della nostra civiltà. Questo Ministero spesso viene vissuto come Ministero della Polizia e noi dobbiamo stare molto attenti a garantire la sicurezza dei cittadini, a garantire sempre il rispetto delle regole da parte di tutti, di chi accogliamo e dei cittadini italiani. Dobbiamo farlo. Ma questa eccellenza è il Ministero del rispetto della dignità della persona. è il Ministero dei diritti, è il Ministero che vede nel dialogo, nella relazione interculturale, interreligiosa, una chiave fondamentale per garantire prosperità e benessere alle nostre comunità. Io ho potuto verificare la partecipazione convinta a questa iniziativa, che sono certo ne annuncerà altre, perché si attiverà un meccanismo imitativo, considerata l'autorevolezza della sua persona, del suo impegno, e anche la convinta partecipazione di tutti i suoi collaboratori. Anch'io voglio ringraziare il Reverendo Integlia per quanto ha fatto e quanto continuerà a fare e l'Ordine di Malta che ci accompagnerà in questo percorso. Noi siamo profondamente convinti che il lavoro delle istituzioni, quando è supportato dalla convinzione profonda che assume la dignità della persona, il rispetto della persona, quale principio ineludibile, quell'impegno e quel lavoro è capace di generare risultati non immaginabili in contesti diversi. E qui oggi noi abbiamo la possibilità non solo di prendere atto della vostra straordinaria generosità e lungimiranza, ma anche dell'impegno e della determinazione di tanti funzionari, di tanti prefetti, di tanti dirigenti che ogni giorno fanno con convinzione profonda il proprio dovere nell'unico intento di aiutare gli altri. Questa missione ci accomuna ed è bello poterlo suggellare in un atto a rilevanza giuridica che sono convinto ci metterà nella condizione nei prossimi mesi di misurare la straordinaria efficacia di questo intervento e di quanto la cultura possa aiutarci, la conoscenza possa aiutarci a rendere migliore ciascuno di noi e tutti insieme. D'altra parte il governo della Repubblica italiana, il presidente Renzi, il ministro Alfano che la saluta e che condivide profondamente questa iniziativa, hanno voluto segnalare l'opportunità di investire nella conoscenza e nella cultura perché la violenza, il terrorismo, la barbarie, noi dobbiamo combatterla pretendendo il rispetto della legge, con l'uso anche legittimo della forza, ma dobbiamo sconfiggere questi fenomeni con la leva culturale, la capacità di elevare ciascuno alla consapevolezza che la relazione positiva con gli altri, con i nostri simili, costituisce un valore straordinario che può aiutarci a risolvere i tanti problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare. Ed è con questo spirito quindi che io la saluto e le rinnovo l'apprezzamento e il ringraziamento di tutta l'amministrazione dell'interno, del governo italiano, per questo atto di straordinaria generosità e lungimiranza che noi sosteniamo convintamente e che siamo convinti ci aiuterà a migliorare la qualità del nostro lavoro. Grazie.